Abbiamo invitato 20 imprese italiane a venire in Giorgia per presentare i prodotti tipici del nostro paese. Tratta di prodotti di altissima qualità, di una qualità nota per essere altissima anche in Italia. E un po' rappresentano tutta l'Italia, perché partiamo dal nord con la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e poi scendiamo verso la Toscana e infine verso la Campania. Il beneficio soprattutto delle imprese italiane che sono venute qui oggi, vorrei dire che da tutte le istituzioni finanziarie internazionali presenti in Giorgia, oltre che dalle autorità georgiane, riceviamo l'impressione che il paese in questa fase sia in un'importante fase di rilancio dell'economia. Quindi mi sembra che la vostra visita in Giorgia sia particolarmente giusta nei tempi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.